La tomba di Vibbo Marina, la chiusura del cementificio. Da quando il cementificio di Vibbo Marina ha chiuso i battenti nel 2012, la frazione portuale è cambiata profondamente. Con gli 80 dipendenti che hanno perso il lavoro sono andate via anche le ditte dell'indotto, che davano da vivere a 400 famiglie e creavano un giro d'affari di circa 100.000 euro al giorno. Vibbo Marina ruotava intorno all'economia del cementificio, quindi mi aspettavo che la chiusura abbissava questo paese. E così è stato, nel senso che la banca ha chiuso e tanti giovani sono andati via. Il mercato immobiliare ha cominciato ad agonizzare, banche e negozi hanno chiuso e la cittadina che aspirava a diventare comune a sé si è spopolata. Abbiamo perso quasi 400 posti di lavoro. Se andiamo a moltiplicare le mensualità ci rendiamo conto che Vibbo Marina ha perso quasi un 15%. Si sono perduti autisti, camionisti che non fanno più il trasporto, le navi che non arrivano più, Pozzolana, tutto qua. Quindi è stato un disastro continuo. L'estate inizia qua il primo d'agosto, sono 20 giorni di estate piena. Con la mancanza di lavoro è arrivato anche il degrado che adesso attanaglia Vibbo Marina da ogni lato. Da queste parti la grande fabbrica di talcementi non ha mai fatto paura a nessuno. Venduto nel 2016 al gruppo tedesco Edilberg che non ha cambiato idea sulla dismissione, lo stabilimento ha sempre rappresentato un insediamento all'avanguardia, con bassi livelli di inquinamento rispetto all'entità della produzione. Non ho mai concordato con chi diceva inquina e tutto il resto perché sono stati un po' loro comuni. Nei momenti in cui inquinava veramente la gente e moriva di silicosi non ne parlava nessuno. Adesso che da vent'anni aveva un impianto nuovo che veramente era al fiore all'occhiello, purtroppo hanno fatto sì tutti quanti che questa azienda se ne andasse. Oggi però la sua enorme sagoma polverosa che ricopre 30 ettari di territorio rappresenta l'emblema del fallimento di una classe politica che non solo non è riuscita a incentivare la sopravvivenza della fabbrica, ma non è neanche in grado di promuovere la bonifica e la riconversione dell'area. Tu hai avuto quel terreno, lì talcementi, per mettere operai e tutto quanto. O te ne vai, vede facile, non succede niente. Enrico De Girolamo per la Cineus24